I dirigenti del basket jar si riaggiorneranno nel mese di luglio dopo il primo summit della settimana scorsa. La botta della retrocessione è stata assorbita e già si inizia a parlare di futuro. L'intendimento della società del presidente Giovanni Spada è quello di partecipare alla prossima Serie D. Meglio non imbarcarsi in tentativi di ripescaggi, è preferibile cercare un anno da protagonisti sul campo. Già definita la scelta di confermare l'allenatore Simone D'Urso a prescindere da quelli che saranno gli obiettivi. Perché nonostante la retrocessione, l'esperienza maturata dal giovane coach nella passata stagione rappresenta una buona base di partenza. Nelle prossime riunioni saranno definiti budget e obiettivi da fissare per la partecipazione delle canotte gialloblu alla prossima Serie D.